In tempo di ristrettezze economiche anche 30 euro al mese possono rappresentare un sacrificio per le famiglie. Per questo la volle di Cosenza ha deciso di aprire le porte della propria scuola di pallavolo femminile gratuitamente per le bambine disagiate di età compresa tra i 9 e i 14 anni. Abbiamo constatato che ci sono tante ragazze che pur avendo predisposizione a fare lo sport della pallavolo non si avvicinano per problematiche economiche. Ci siamo impegnati a far frequentare lo sport della pallavolo a queste ragazze gratuitamente, non solo senza pagare la piccola quota mensile che normalmente si paga, ma anche attrezzando con abbigliamento e altre cose l'assicurazione e quindi aiutare queste famiglie a fare in modo che le ragazze frequentino la pallavolo. Questa vostra idea potrebbe consentire a qualche giovane talento in erba di poter spiccare il volo? Sicuramente perché ci sono un sacco di talenti inespressi e nascosti che vengono meno per difficoltà economiche o per situazioni di disagio familiare e con questo progetto noi diamo la possibilità di far esprimere il proprio talento, la propria qualità. Una promozione educativa dello sport con l'ospicio che altre società di altre discipline possano intraprendere lo stesso percorso in un contesto nel quale le strutture non mancano ma non sempre sono fruibili. Questa città, parlo dell'Hinderland, ha oltre i cinque palazzetti di cui uno solo funzionante, così come le palestre scolastiche sono tutte palestre non adeguate. Salvatore Bruno per la Cineus24